Ho 27 anni al momento, ma ultimamente quando faccio le live, l'ultima volta ho ricevuto un commento di uno che mi fa Marco sei pronto per il ritorno a scuola? Quindi diciamo che inizialmente era un po' una cosa così, poi mi sono accorto che forse, perché iniziano a farmi notare più persone, che non dimostro la mia età, dimostro qualche anno in meno, in realtà se mi vedeste al vivo sono 1,90x90 kg, Probabilmente in video non dimostro queste cose, in realtà ho pensato forse perché comunque sto invecchiando bene E allora da quando ho iniziato a fare, come vi ho fatto vedere in altri video, la routine di Brian Johnson, di tutte queste persone che passano la loro vita come atleti della longevità, quindi a cercare di migliorare i loro parametri vitali, parametri biometrici, tutto ciò che riguarda l'invecchiare meno lentamente possibile, mi sono accorto, seguendo tutti i loro consigli e inserendo anche parte di quello che fanno loro durante la loro routine nella mia vita, sono accorto che già tante cose io le ho sempre fatto E mentre queste persone sono partite comunque intorno ai 40-45 anni, un po' più in là, ad avere le informazioni necessarie per migliorare la propria routine, io invece le ho iniziate da poco, da un paio d'anni e in più ho sempre fatto tante di quelle cose Però vi voglio dire quali sono queste cose, non solo che queste persone fanno, che anch'io faccio per non invecchiare, per invecchiare il meno lentamente, cioè il più lentamente possibile ma anche aggiunte ad alcune cose di mia esperienza e anche di esperienza nel mondo spirituale, nel mondo dello yoga nel mondo della Ayurveda Perché? Perché queste persone tendenzialmente si basano o su fattori genetici quindi ci sono persone che geneticamente sono portate anche fumando e vivendo una vita a caso vivono fino a 110 anni, ma per la maggior parte delle persone fare le cose che questi atleti della longevità fanno è la scelta migliore, ma secondo me loro seguono esclusivamente la scienza che ci sta ma ci sono delle cose che secondo me anche una conoscenza, una saggezza più antica sa, ci sono delle cose che si sanno e quindi io ho aggiunto ciò che funzionava anche per me in base a Ayurveda, yoga e tutte queste culture comunque multimillenarie e quindi vi dico cosa faccio Allora partiamo dalla base la base per tutti, che dovrebbero fare tutti, su cui puoi costruire magari delle tecniche diverse, cose diverse la base è data da tre punti fondamentali il primo è il sonno non mancate il sonno il sonno è la cosa più fondamentale, più importante per la vostra longevità, per la salute, per i parametri vitali tutte le persone che studiano la longevità si accorgono che il sonno è la cosa più importante i benefici sono infiniti, è fondamentale per il nostro corpo almeno dormire sulle sette ore, anche di più e dei consigli semplici sono cercare di andare a letto a stomaco vuoto quindi cercare di mangiare l'ultimo pasto qualche ora prima di andare a letto questo se no va a rovinare il sonno avere una wind down routine quindi avere quell'oretta in cui prima di andare a letto si mettono delle luci più calde si smette di guardare schermi si cerca di rilassarsi e non continuare a fare mille lavori, mille cose, stare al telefono, guardare serie e tutto e poi di colpo mettersi a letto e cercare di dormire non ce la farai mai, avrai un sonno ovviamente che ci metterai molto di più a dormimentarti e sarà anche peggiore abbi quell'oretta in cui leggi un libro, vai a lavarti, ti rilassi, fai la skin care, fai le tue cose e poi pian piano, anche già mettendoti le luci calde perché le luci fredde rovinano quindi mettendoti una luce calda come ad esempio la lampada arancione o rossa o altre cose anche con un po' di buio e inizia pian piano a andare a letto idem tutte le cose che riguardano stimolanti quindi caffè, tè, teina, caffeina, schermi, luce, allenamento cerca di mettere tutto nella prima parte della giornata e lascia stare la seconda parte e cerca di andare a letto sempre più o meno alla stessa ora queste sono le cose fondamentali secondo step che è importante ma il primo step è il sonno poi ci costruisci sopra l'allenamento quindi almeno fare 30-60 minuti di attività al giorno che tipo di attività? allora secondo me un'attività che vada a costruirti la massa muscolare è necessaria quindi un po' di palestra, pesi, corpo libero qualcosa che vada a lavorare sulla forza è necessario perché più massa magra hai e più il corpo funziona bene ovviamente non devi diventare gigantesco ma avere una piccola base di massa magra sicuramente aiuta e poi gli altri giorni fare qualsiasi cosa vi piaccia ma fare da 30-60 minuti di attività al giorno cercate di capire che ogni parte del corpo andrebbe mossa quando siamo bambini muoviamo il corpo ci lanciamo, saltiamo, facciamo squat, salti, piegamenti, ci arrampichiamo facciamo di tutto di più e quella cosa aiuta tantissimo per mantenere il corpo attivo per mantenere le articolazioni sane per mantenerci bene quindi senza esagerare fare tutti i tipi di attività che possano migliorare e il vostro corpo utilizzarlo nel migliore dei modi ricordatevi che il corpo più lo si utilizza e meglio funziona perché mentre durante il sonno tutto ciò va a recuperare quindi mente e corpo recuperano e si crea energia nuova per il nuovo giorno l'allenamento va proprio a consumare quell'energia potenziale che serve anche al tuo corpo perché sennò rimane lì stagnante ha benefici allenarsi tutti i giorni è qualcosa di incredibile lo faccio da sempre ho fatto nuoto per tutta la vita e quindi fin da quando sono piccolissimo faccio tutti i giorni allenamento e per me passare un giorno in cui non faccio almeno un tot di attività per me non lo so non penso di non averlo mai fatto nemmeno quando sono stato male mai 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 è proprio una cosa per me fondamentale e vi consiglio di farlo anche voi non serve fare cose pazzesche, esagerare ma dare durante la giornata anche un po' più di movimento quindi invece di stare tutto il giorno seduti ogni tanto alzatevi l'Apple Watch aiuta per ricordarvi questa cosa muovetevi un po' parcheggiate un po' più lontano per fare le scale quelle scegliete il movimento invece dello star fermi e poi ogni tanto fate magari degli esercizi di postura quindi cose posturali muovete ogni singola parte del corpo polsi, caviglie, ginocchia quando fate esercizi, allenamento scegliete magari anche degli sport che vi possono aiutare la velocità quindi la corsa, la box, gli arti marziali qualcosa da lanciare, qualcosa da tirare qualcosa da spingere cerchate di utilizzare il corpo in tutti i modi possibili è importantissimo anche fare stretching quindi l'allungamento anche importantissimo la presa, il grip l'aerobico, l'aerobico hit, attività cardiaca, attività non cardiaca uno sport, fare attività in velocità fare giochi utilizzare il corpo è una cosa che io faccio tutte le mattine anche che consiglio è un minimo di yata yoga quindi yoga a livello fisico perché? perché vai a utilizzare il corpo e a svegliarlo anche a livello fisico, energetico di tutto e di più in un certo modo quello che io faccio la mattina quando mi alzo prima della mia meditazione è sempre dieci minuti circa yata yoga che consistono in un saluto al sole quindi sette ripetizioni di saluto al sole il surya namaskar che va proprio a migliorare a far fluire il caldo il calore, l'energia dentro di sé ha tantissimi benefici e in più anche faccio i 5 eriti tibetani che sono 5 esercizi molto semplici ripetuti 5 volte vi lascio in descrizione se volete dargli un'occhiata che vanno proprio ad aiutare per la respirazione per aprire il corpo per avere una postura migliore per aumentare la longevità quindi sono proprio esercizi studiati per migliorare il benessere terza cosa fondamentale e poi costruiamo qualcosa di extra è la dieta dieta cosa vuol dire? è consigliata una dieta mediterranea tendenzialmente la dieta mediterranea è quella che per la longevità funziona al meglio quindi anche comprendendo olio d'oliva comprendendo tutto quello che noi tendenzialmente italiani mangiamo di solito l'importante è evitare cibi troppo confezionati cibi troppo grassi cibi troppo calorici cercare quindi di capire quant'è il nostro metabolismo e rimanere sempre lì quindi magari anche con un leggerissimo deficit se si vuole iniziare a perdere un po' di massa grassa abbinato all'allenamento e al sonno la dieta va a completare il tutto una dieta che nella Ayurveda o comunque in India nel mondo della spiritualità è consigliata è comunque anche una dieta tendenzialmente vegetariana ma più che vegetariana è qualcosa basato sulle piante per una questione di gestione per una questione che noi siamo quello che mangiamo e anche addirittura un po' crudista quindi tutto ciò che è vivo in India nello yoga se mangi qualcosa di vivo appena cotto al massimo può comunque aiutarti viene chiamato prana positivo quindi cibi che ti danno energia invece se qualcosa è cotto da tanto tempo è lasciato lì o comunque è carne qualcosa difficile da digerire qualcosa lontano dal nostro patrimonio genetico qualcosa di simile scusatemi al nostro patrimonio genetico tendenzialmente passa per il nostro organismo molto lentamente e invece frutta verdura e tutto ciò che è lontano come il pesce al massimo dal nostro patrimonio genetico passa più velocemente quindi una dieta vegetariana nell'ayurveda viene consigliato ve lo dico perché può essere e poi ci sono dei superfood che aiutano come il miele come l'olio d'oliva alcune spezie quindi anche su quello c'è un mondo intero aiuta tantissimo anche bere tanta acqua consiglio dell'ayurveda conservare l'acqua che comunque ha un certo tipo di conservazione anche quello di energia nello yoga si crede che comunque essendo noi per la maggior parte fatti d'acqua qualsiasi cosa mantenga delle vibrazioni delle frequenze qualsiasi oggetto le ha e quindi anche l'acqua nel momento in cui ne la beviamo il modo in cui è fatta l'acqua poi diventa anche parte di noi e quindi si cerca di tenerla in un modo positivo e quindi è proprio quello che in India vedete sempre persone che pregano l'acqua prima di berla o comunque che la tengono in contenitori di rame perché si dice che aiuti anche questo è molto e in più altro consiglio se la maggior parte delle diete non sono complete al 100% hanno dei deficit in qualcosa ed è per quello che gli integratori in quel caso servono non vi consiglio di andare a prendere integratori a caso ma tendenzialmente seguite quello che vi dice un nutrizionista o fatevi seguire da un esperto io vi sto facendo seguire sia per la parte fisica che per la parte di dieta perché così ho delegato questi pensieri a qualcuno e non ci penso più e ho un piano prescritto basta semplicemente diventare un po' consapevole di ascoltare il corpo e fare le cose scientificamente in un certo modo e quindi se doveste prendere magari un integratore consiglio quelli base o se no semplicemente tipo multivitaminico omega 3 calcio, magnesio e zinco tendenzialmente sono cose che un po' tutti possono prendere ma se dovete sceglierne uno scegliete quello di cui siete careni una cosa molto importante che aiuta tantissimo è anche fare i digiuni ad esempio oggi io sono a digiuno tutto il giorno quindi tendenzialmente io faccio un digiuno alla mattina e inizio a mangiare verso mezzogiorno quindi quello che viene chiamato digiuno intermittente ma chiamatelo come vi pare semplicemente mangio in una finestra di tempo ma perché? perché la mattina faccio yoga e meditazione a stomaco vuoto quindi prima di iniziare la mia giornata leggo il libro vado a fare la skin care o il pulling e tutte quelle cose che faccio di solito yoga e poi meditazione yoga e poi inizio la giornata a mangiare e inizio con la mia colazione quindi diciamo che è un po' anche per quello però allo stesso tempo può essere utile un po' tutti i giorni senza esagerare nulla in esagerazione utile ma se volete fare anche i digiuni un po' più approfonditi ho fatto un video sugli ekadashi nello yoga questa cosa in ayurveda viene chiamato ekadashi ci sarebbero dei giorni come oggi in cui il nostro corpo è più propenso al prendersi un piccolo spazio un piccolo riposo dalla digestione quindi in realtà sarebbe necessario per il corpo per depurarsi per aiutare anche proprio a livello energetico a tantissimi benefici e anche nel mondo della longevità è una cosa diciamo che è meglio farla quando sei a stomaco vuoto diciamo che si funziona un po' al meglio e ovviamente anche tante cose che crescono nel nostro corpo nel momento in cui gli dai degli spazi ogni tanto queste cose fanno fatica a proliferare a creare altre cose negative nel corpo diciamo proprio senza creare un video scientifico senza troppi termini tecnici questa è un po' la spiegazione che darei anche a un bambino per far capire a tutti la questione e diciamo che questi giorni di digiuno sarebbero dei giorni in cui a livello lunare a livello ciclico come tutto il resto alla fine natura è un po' in base ai cicli lunari in base al ciclo della terra in base al ciclo del sole diciamo che il calendario lunare è quello yoga che si basa molto appunto sulla luna e va anche a regolare tutti i fluidi corporei è quello che va a dire come viene regolato le maree tutto ciò che riguarda i fluidi sulla terra compreso anche il nostro corpo e compreso anche la nostra digestione quindi ci sono due giorni al mese in cui si fa un arda ai kadashi quindi un mezzo ai kadashi e due volte al mese di solito una o due volte in cui c'è un purna ai kadashi quindi un ai kadashi più completo durante il mezzo ai kadashi si dovrebbe saltare praticamente la cena durante il purna ai kadashi si dovrebbe saltare tutto tranne la cena e ovviamente quando si fa il digiuno bisogna sapere quello che si fa bisogna stare attenti magari chiedere anche un medico e c'è gente che lo fa anche per motivi religiosi va bene io a me non interessa io lo faccio per i benefici che dà anche per il mio corpo e vi dico la verità quando fate un po' di yoga quando iniziate a fare questi kadashi all'inizio penserete è difficilissimo restare 24 ore senza cibo invece dopo un po' vi accorgete che essendo un po' anche in sincronia con tutto il resto vi accorgete che in effetti se siete consci e ascoltate un attimo il vostro corpo quello è un giorno in cui non fate per niente fatica a fare digiuno e se lo fate con vostra intenzione diciamo sentite che il corpo ha bisogno d'acqua ha bisogno di alcune cose ma non ha bisogno per forza di cibo e quindi lo si riesce a fare senza troppi problemi dopo un po' vedrete che sarà sempre più semplice quindi quella è una cosa che aiuta aiuta molto però mi raccomando bisogna sapere quello che si fa quando si rompe il digiuno bisogna sapere cosa mangiare non esagerare nel riprendere cibo mangiare le cose giuste bisogna sapere quello che si fa però ho fatto un video di dica e ora passiamo a qualcosa di più avanzato e alla fine del video vi farò vedere anche un test di longevità che potete fare anche voi a casa e che farò anch'io con voi prima cosa cura di sé quindi self care se vi prendete cura da un punto di vista di corpo base con tutte le tre basi di cui abbiamo parlato siete all'80% delle cose ma se volete aggiungere un 20% c'è da prendere qualche piccola accortezza sulle altre parti del corpo ovvero gli occhi la faccia la mascella la postura i capelli quindi imparare a prendersi cura di sé imparare ad avere una skin care quindi mettersi un spf per ripararsi dalla luce del sole va bene stare nella natura ma occhio alla luce del sole quando i raggi UVA UVB sono troppo forti quindi il sole comunque danneggia la pelle quando la pelle è abbronzata in realtà significa che è una pelle danneggiata quindi occhio a quello perché la pelle invecchia tantissimo con quello cercate di non bere troppo alcol di non mangiare troppi dolci di non fumare perché queste cose rovinano tantissimo il vostro corpo per i capelli cercate di utilizzare i prodotti giusti avere una routine sana e non stressare i capelli se avete paura di iniziare a perdere pian piano i capelli per una lopecia o per magari semplicemente stress nel tempo è meglio agire ora piuttosto che agire più avanti perché avere una pelle sana e anche dei capelli sani e degli occhi sani è una cosa che poi non solo si vede a primo impatto ma aiuta anche per la longevità in generale quindi imparare a prendersi cura di ogni parte di sé capire cosa vuole il tuo cuore cosa vogliono i tuoi polmoni cosa vogliono i tuoi capelli e gestire cosa dopo cosa anche semplicemente l'aria che respiri io mi sono comprato tempo fa un depuratore d'aria per la mia stanza perché? perché quando dormo comunque nei momenti in cui non posso aprire la finestra e soprattutto io abitando in Veneto comunque diciamo che l'aria all'esterno non è il massimo e quindi diciamo che imparare a prendersi cura di sé anche prendersi un po' di tempo per sé non essere stressati leggere un libro imparare a dedicare un po' di tempo a se stessi il grounding quindi essere a contatto con la natura eccetera e anche la postura il viewing la postura corretta della lingua imparare a gestire tutte queste cose di cui ho fatto mille video che vi lascio in descrizione queste cose aiutano in tutto ricordatevi che il corpo è tutto collegato quindi migliori una cosa ne migliorano tante altre immaginarsi di avere un filo che ti tira qui quindi avere la postura corretta muoversi durante il giorno eccetera ultime due cose una è lo yoga la meditazione yoga significa unione è un ambito più spirituale ma tendenzialmente per la longevità può avere anche essi effetti pazzeschi anzi diciamo che gli effetti positivi sono una conseguenza dello yoga ma non sono lo scopo dello yoga si sta benissimo ma non è quello per cui è fatto è fatto per raggiungere dimensioni oltre il proprio sé quindi entra un argomento un po' più spirituale in cui ne parlo in altri video ma tendenzialmente anche l'hatha yoga o comunque un kriya esercizi di meditazione fare meditazione ogni giorno fare aiuta tantissimo vi lascio in descrizione un video in cui parlo della meditazione come iniziare meditazione e che cos'è veramente la meditazione ma in ogni caso prendetevi quei 5 10 15 20 minuti al giorno per fare una tecnica di rilassamento di meditazione di yoga sia hatha yoga ma magari anche uno yoga meditativo come un kriya yoga consiglio una meditazione base che si chiama insha kriya la trovate gratuitamente su youtube e quella è già tanta roba è proprio una meditazione base ma fatta bene di circa 10 15 minuti altra e ultima cosa le respirazioni ricordatevi che il respiro è importantissimo come abbiamo il cibo come abbiamo il sonno come abbiamo l'allenamento e tutto il resto viviamo anche d'aria i nostri 5 elementi quello che in yoga viene chiamato butasciudi la purificazione dei 5 elementi si basa anche su questa cosa qui quindi fare imparare ad esempio con il metodo Wim Hof o comunque col butasciudi imparare a utilizzare la doccia per purificare la parte dell'acqua stare a contatto con la natura per la terra respirare aere pulite fare esercizi di respirazione per l'aria bere l'acqua depurata per l'acqua gli esercizi per il sole come il surina mascare essere a contatto con il sole o comunque con il fuoco le candele per il fuoco eccetera 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 il movimento ma tendenzialmente la respirazione è anche qualcosa a cui diamo troppo poco peso e che in realtà ha un peso enorme nella nostra vita quindi imparare a respirare correttamente dal diaframma respirare lentamente ci sono delle tecniche che aiutano come il coherence briefing imparare a respirare durante il giorno la respirazione perfetta quindi sei secondi dentro sei secondi fuori dal diaframma senza gonfiare da qua ma profondamente dalla pancia rilassarsi e ricordate che lo stress è una delle cause fondamentali dell'invecchiamento e del malessere quindi imparare a rilassarsi anche durante il giorno non essere sempre tesi sempre così ma imparare a rilassare la faccia gli occhi respirare lentamente più lentamente e meno e magari aggiungerci qualche esercizio di respirazione come il metodo qualche kriayoga anche qualcosa che vi possa aiutare come le docce fredde docce fredde anche quelle ci sono tantissime cose la crioterapia i cameri per bar che ci sono tantissime cose che possono aiutare ma lì entra un mondo infinito di teste che ancora si stanno facendo ma queste sono le basi e adesso facciamo insieme un test di longevità per capire quanto siamo fisicamente vecchi poi ovviamente ci sono dei test più biometrici per vedere anche a livello biologico come siamo messi da un punto di vista cellulare e di plasma e tutto ma quella è un'altra storia allora un test per la longevità fisica quindi per vedere quanto il nostro corpo ha potenziale di longevità quanto siamo giovani a livello di corpo è quello di fare quattro test io posso farne purtroppo solo tre su quattro perché per uno serve uno strumento che non ce l'ho è una cosa che potete utilizzare cioè che potete fare anche voi a casa il primo sarebbe il grip quindi in base a quanto grip quanta forza nella presa hai è correlata questa cosa a quanto sei diciamo giovane a livello fisico purtroppo diciamo che secondo me ho una bella forza perché comunque ho fatto calistenico per un bel po' di tempo ho sempre fatto palestra tante trazioni facevo i muscle up in più faccio continuamente trazioni anche adesso soprattutto anche quando facevo nuoto facevo tantissime trazioni e anche con box arti marziali e tutto quindi secondo me ce l'ho però diciamo che non posso misurarlo però le altre tre cose che posso fare uno è quanto tempo si sta su un piede solo quindi l'equilibrio è su un piede solo e adesso lo proviamo vabbè ragazzi siamo a due minuti e trenta secondi secondo me posso stare qua all'infinito diciamo che secondo me non ho nessun segno di poter cedere ho forse leggermente un po' il gluteo che inizia a sentirsi ma poi per il resto tipo livello di equilibrio non ho nessun problema proviamo a stare un altro po' e vediamo nel video che ho visto di Brian Johnson loro mi sembra che duravano intorno al minuto e trenta due minuti due minuti e qualcosa forse Brian tre minuti cerco di battere Brian eh tre minuti e ragazzi io da quello che so oltre i 40 secondi è ottimo quindi sei tipo top 99% quindi secondo me possiamo anche smettere tre minuti vabbè proviamo ad arrivare a 4 dato che ci siamo poi non so se c'è una preferenza per il piede ma io ho usato il destro così proprio per istinto 48% 59% e siamo a 4 minuti 4 minuti e iniziamo a sentire un po' la gamba in effetti uh cosa è successo oddio c'è qualcosa che non va nel nel mio modo di di camminare ok vediamo se la sinistra cambia no stessa identica cosa ragazzi il peso di poter stare qua all'infinito forse anche la box che ha aiutato kickboxing che ha aiutato a dare un po' questa forza sul piede per tenersi su beh allora siamo a 5 minuti e 20 secondo me sia con la sinistra che con la destra ci siamo il secondo test è quanti piegamenti di fila si riescono a fare in teoria sopra i 40 mi sembra dovrebbe essere ottimale quindi top tot per cento ma dopo vi metto tutti i dati qua per sicurezza proviamo non ne ho idea cerchiamo di fare una bella forma fatta abbastanza bene 50 è da un po' che non le facevo i piegamenti perché comunque una volta forse ne avrei fatti di più però l'allenamento a corpo libero l'allenamento pesi sono due cose diverse ultimamente sto facendo più pesi con il nuovo programma quindi vabbè ci sta la terza cosa è a piedi uniti in teoria quanto ah no così forse sì ecco così quanto si riesce ad arrivare distanti vediamo se così si vede ecco quanto distante si riesce a toccare comunque arrivare ai tuoi livelli di piedi al massimo o quanti centimetri riesci ad arrivare di distanza io sulla flessibilità sono messo malissimo anche se l'allenamento proviamo allora fino a qua ci arrivo è ok ci siamo mi allungo un attimo e niente poco più dei piedi pochissimo più dei piedi però non so se è giusto pochissimo più dei piedi tipo 2 centimetri più dei piedi 2-3 centimetri più dei piedi quello in cui forse non sono messo meglio ecco qua ragazzi fatevi sapere voi cosa ne pensate tra l'altro voglio iniziare una nuova rubrica per cui tendenzialmente ultimamente sto facendo un video di cura di sé a livello esteriore un video di cura di sé a livello interiore come genere di video a settimana ma vorrei iniziare anche una nuova rubrica non solo magari un video in inglese ogni tanto tipo una volta al mese come faccio sui miei altri canali ma anche siccome ricevo dei commenti con delle domande e vedo che voglio creare una certa continuità anche con voi e un certo tipo di interazione con voi se vedo che c'è un commento nei video come questo video qua se vedo che c'è un commento con più mi piace quindi che alcune persone se lo sono chiesti ed è una domanda o un chiarimento o un approfondimento vado a prendere quella domanda e ci faccio un video extra oppure il prossimo video sarà su quella domanda quindi rispondere alle vostre domande con i video quindi non fare video sempre magari solamente di cose che voglio io ma anche vedere che cosa volete voi e rispondere alle vostre domande i dubbi i chiarimenti eccetera se vedo che non c'è nessun commento che spicca in generale magari ne scelgo uno io o magari faccio un video come al solito fatemi sapere se vi può piacere tutte le risorse ve le lascio in descrizione delle cose di cui ho parlato e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi